Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pillole di Comics, la rubrica in cui approfondiamo storie e personaggi dei fumetti supereroistici. In questa puntata vi parlerò delle origini e della storia di Ant-Man, o meglio, di tutti gli Ant-Man. Sapevate che il protagonista dell'omonimo film Marvel non è l'Ant-Man originale? E sapevate che nei fumetti Marvel ci sono stati ben tre Ant-Man? Se avete risposto di sì a entrambe le domande, allora... beh, forse potete anche non guardare più il video. Ma se invece le risposte erano negative, oppure vi state semplicemente annoiando, andiamo avanti. Il primo Ant-Man è Hank Pym, che diventa un supereroe dopo aver scoperto le particelle Pym che gli permettono di cambiare statura, e dopo aver creato un elmetto che gli consente di parlare con le formiche e di controllarle. Hank ha cambiato molte identità supereroistiche durante gli anni, Ant-Man, Giant-Man, Golia, Calabrone e perfino Wasp. È un membro fondatore dei Vendicatori, il creatore di Ultron e lo scienziato supremo del pianeta Terra, ma lo circonda una cattiva reputazione dovuta a quella volta in cui schiaffeggiò sua moglie. I Vendicatori lo mettono progressivamente da parte e infine lo cacciano quando Hank crea un robot per combatterli, soltanto per farsi bello sconfiggendolo, ritornando così nelle grazie del gruppo, ma diciamo che il piano non ha proprio funzionato. E comunque, alla fine Hank è tornato a essere un membro dei Vendicatori, e quindi possiamo dire che tutto si sia risolto per il meglio. Passiamo all'Ant-Man numero due, Scott Lang, ovvero il protagonista del film. Scott è un esperto di elettronica che diventa un criminale per provvedere alla sua famiglia. Viene arrestato, divorzia mentre è in galera, ma viene rilasciato prima per buona condotta. Quando sua figlia si ammala, ruba la tuta di Ant-Man di Hank Pym e la utilizza per salvare un dottore tenuto prigioniero che, in cambio, salva sua figlia. Risolta la questione, Scott prova a restituire la tuta di Ant-Man a Hank Pym, ma Hank in sostanza dice No, fratello, tienila, il mondo ha bisogno di più eroi. Scott, comunque, prima del film non è mai diventato particolarmente popolare. Per breve tempo ha lavorato con i Fantastici Quattro, poi si è unito agli eroi in vendita e, infine, è morto perché il suo amico Fante di Cuori è esploso. Ma poi è tornato in vita quando sua figlia ha viaggiato nel tempo e l'ha riportato nel presente pochi istanti prima che morisse. In seguito, Scott è entrato a far parte della Fondazione Futuro perché il dottor Destino ha ucciso sua figlia e ha usato le risorse della Fondazione proprio per rintracciare e uccidere Destino. Ma alla fine non l'ha fatto. Ma non preoccupatevi, tutto si è risolto perché Destino ha riportato in vita la figlia di Scott durante l'evento Axis. E arriviamo al terzo Ant-Man. Eric O'Grady è un agente dello SHIELD corrotto che ruba la tuta di Ant-Man dal cadavere del suo migliore amico che l'aveva rubata a sua volta, per sbaglio. Eric è uno dei personaggi più disprezzabili dell'intero universo Marvel. Usa la tuta per salvare donne dai pericoli, poi le convince ad offrirli una cena per ringraziarlo e, infine, entra di soppiatto nelle loro case per spiarle mentre si lavano. E gli piace davvero parecchio vedere le donne mentre si lavano. In fuga dallo SHIELD, Eric riesce ad ottenere una falsa identità e un lavoro nel team di supereroi spazzini Damage Control con il nome di Mantide Omicida che non è proprio un nome calzante per un eroe, no. Comunque, alla fine Eric viene catturato dallo SHIELD ma riesce a raccontare una bugia davvero molto convincente al direttore dello SHIELD Tony Stark, alias Iron Man. Egli viene concesso di continuare ad essere Ant-Man come membro dell'iniziativa dei 50 stati. Più avanti, Eric diventa membro dei Thunderbolts ed esegue missioni top secret sotto il comando di Norman Osborn, ovvero Goblin. Infine, Eric entra a far parte dei Vindicatori Segreti e apparentemente viene ucciso. Si scopre infatti che il morto è in realtà un life model decoy. Quindi Eric potrebbe ancora essere vivo. Ad ogni modo, da allora non si è più visto e Scott Lang è tornato ad essere l'Ant-Man titolare giusto in tempo per l'uscita del film. Ma guarda un po', le coincidenze. Per approfondire la storia di questi personaggi vi consiglio Ant-Man Season 1 per Hank Pym, la testata di Ant-Man lanciata in occasione del Marvel Now per quanto riguarda Scott Lang e l'incorregibile Ant-Man per Eric O'Grady. La storia dei vari Ant-Man per ora finisce qui e adesso comincia la vostra. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutti questi Ant-Man, qual è il vostro preferito, cosa ne pensate delle loro storie, delle loro origini e più in generale cosa ne pensate di questa rubrica. Date sfogo ai vostri pensieri, quanti pensieri, quante pensate. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo su tutti i social network e se volete seguitemi su tutte le pagine social che vi metto a disposizione. Trovate i link in descrizione, pagina Facebook, Twitter, Instagram e anche il link per iscrivervi al gruppo di Telegram. Iscrivendovi al gruppo di Telegram rimarrete sempre aggiornati su tutte le attività, tutti i video del sottoscritto. E un altro modo con cui potete restare aggiornati è iscrivervi al gruppo di Facebook Le Amiche Intime di Matioski. Anche lì posto tutti i video in rigoroso ordine di uscita e potrete anche conversare amabilmente con tanta bella gente, tanti bei gnocchi, tanta bella gnocca con cui per l'appunto confrontarvi, discutere di Ant-Man e anche di tutti gli altri miei video, di tutti gli argomenti nerd vari ed eventuali. Ho appena lanciato una sputazza, credo, ma non importa perché siamo arrivati ai saluti finali e ai saluti finali e quindi non mi rimane altro da fare che salutarvi con il mio supereroistico Sbadoosh!